Siamo a Iesolo, presso lo stabilimento Balneare Manzoni e qui con me c'è il presidente Amorino De Zotti. Da sempre questo stabilimento è famoso per aver fatto numerosi investimenti. Quest'anno quali investimenti sono stati fatti presso lo stabilimento, presidente? Quest'anno noi abbiamo fatto una prova con 500 casseforti o cassette di sicurezza come si vuol dire per dare la possibilità al turista che viene a soggiornare da noi sotto l'ombrellone che possa mettere le sue cose, telefonino, soldini e quant'altro con una cassaforte elettronica. Questo vuol dire che tutta la famiglia che soggiorna sotto l'ombrellone può andare a fare il bagno a tutti assieme, può andare a bere un drink da qualche parte o una passeggiata. Il prossimo anno completeremo tutto lo stabilimento e saranno 1750 casseforti proprio. Abbiamo fatto anche in questi giorni qua delle interviste e delle domande ai nostri turisti per quanto riguarda questo ulteriore servizio che stiamo dando. È il risultato che è positivo e credo che questa soluzione e questo progetto verrà recepito e condiviso anche da tutti gli altri stabilimenti nei prossimi anni. Volevo inoltre aggiungere che questo progetto è stato condiviso anche dalla ditta Hotel Market che è la fornitrice che molto probabilmente andrà anche in accordo con l'amministrazione comunale e con il comando dei vigili perché mettere in sicurezza l'ombrellone con questo progetto vuol dire fare la prevenzione a eventuali cose che non dovrebbero succedere. Ingegnere, come funzionano queste nuove cassaforti rispetto a quelle precedenti? Innanzitutto volevo ringraziare lo stabilimento Manzoni per averci dato la possibilità di studiare queste evoluzioni per quanto riguarda la sicurezza dei turisti. In effetti lo stabilimento era già dotato di una cassetta sicurezza precedentemente installata nello stabilimento però il sistema della chiusura e dell'apertura si dotava in una prima fase di lucchetti e in una seconda fase di una combinazione meccanica e numerica. Sistemi che il primo era di difficile gestione da parte dell'operatore e il secondo era di difficile memorizzazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo fatto un ulteriore step, sempre sollecitati dalle richieste del presidente dello stabilimento il presidente Amorino Dezzotti e abbiamo installato queste cassette che sono cassette con l'apertura elettronica che significa che con un braccialetto il cliente può appoggiare la mano, il braccio vicino all'apertura e quindi associa il braccialetto alla cassaforte. Quindi non ha bisogno più di ricordare nulla. Dirò anche una cosa in più che può essere anche utilizzata la card della camera d'albergo quindi un'ulteriore agevolazione per l'utente che con facilità può scendere dalla camera d'albergo e con la stessa chiave anche agire sull'apertura chiusa della cassaforte. Poi questo sistema potrà essere anche della carta, del braccialetto, potrà essere usato anche per adeguare altri servizi quindi per automatizzare un po' tutta la spiaggia. Questo è vero? È possibile? Sì, è possibile tant'è che già da quest'anno abbiamo anche inserito un'automazione nuova che alla sera dalle 22 di sera tutte le cassette dello stabilimento si aprono in automatico da sole. Questo proprio per evitare possibili atti vandalici da parte di qualche figura malavitosa quindi abbiamo la possibilità di essere anche molto vicini anche sotto questo aspetto. Quindi da una certa ora in poi tutte le cassette si aprono. Ovviamente ci sono tutte le informative per l'utenza, per il turista in modo che non lasciano nulla all'interno delle cassette. Ringrazio prima di tutto e per tutti lo stabilimento Marlenari Manzoni nella figura del suo presidente che ha creduto assieme a noi proprio nell'innovazione della tecnologia, nelle energie rinnovabili proprio per dare un servizio in più e moderno per l'utenza. Ma proviamo a spiegare il funzionamento di queste nuove cassaforti automatiche. Vado presso la cassaforte che è aperta in questo caso, inserisco i miei oggetti personali, in questo caso un telefono ma possono essere anche le chiavi di casa o un tablet perché queste cassaforti sono state appunto progettate più grandi e semplicemente richiudo la cassaforte. Ecco qua. È chiuso con un semplice gesto della mano. Dopodiché un turista può andare a fare un bagno al mare. Al ritorno il turista può semplicemente appoggiare la mano alla cassaforte e questa si apre e quindi si può prendere i nostri oggetti. Signora, buongiorno. Vedo che lei utilizza la cassaforte automatica. È un servizio molto funzionale. Complimenti a chi ha organizzato e a chi ha ideato questa geniale idea. Quando ci assentiamo dall'ombrellone lo utilizziamo sempre e ci avvaliamo del servizio del bracciale elettronico. Bene, grazie. Allora buone vacanze. Grazie. 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 Grazie.